Dobbiamo farlo controllare da un agente speciale Può andare Ora devo cambiare il ciuccio Una vera patriota allatta al seno Lei è stato selezionato per una perquisizione Medico! Si può concentrare sulle spalle, lo metto tutto lì lo stress Se poi scorreggia perché sono molto rilassato Signore, non c'è abbastanza spazio? Sì, che c'è! Benvenuti sul volo 5-5 per Bosman, Montana con scalo a Miami A causa di un'evasione imprevista in Australia Il decollo sarà ritardato di qualche minuto Ora spegniamo l'aria Ma i gruppi etnici hanno il permesso di aprire e mangiare i cibi portati da casa Ma che... Cibo veramente assurdo, amico mio Buone notizie, ci hanno dato il via libera per tornare al terminal Non potete uscire ma potete guardare dal finestrino gli altri che stanno fuori e ci prendono in giro Nessuna notizia del decollo Signore, torni al suo posto Ma devo andare in bagno Doveva pensarci prima di bere i liquidi che servono per sopravvivere